Nell'ambito delle borse di studio Renato Caccioppoli, quest'anno abbiamo fatto diverse iniziative. Abbiamo fatte a Ponticelli intitolate Renato Caccioppoli. Perché Renato Caccioppoli? Come ci ricordava il professore Cosenza, è un po' in maradona della matematica, genio e sregolatezza. E perché a Ponticelli? Perché l'idea nasce da un anno fa, dove a Ponticelli ci fu un episodio camborristico molto pesante. lanciarono due bombe i camorristi e noi dell'associazione Renato Caccioppoli decidemmo di fare delle borse di studio. Loro lanciano le bombe, noi lanciamo le borse di studio. Ci ritroviamo qui per il secondo anno per questa iniziativa molto bella, dove ci sono gli amici dei loro negli architetti, degli ingegneri, però da Rat Club, di Positi, poi da Comici e la parrocchia. Quindi abbiamo fatto squadra perché siamo più numerosi, siamo compatti contro la cultura mafiosa e contro ogni forma di camorra.